buonasera come sapete c'è pastor ha inaugurato di recente un grande enorme punto vendita proprio nel cuore di roma nella fattispecie proprio all'interno del colosseo con la duplice funzione di offrire i propri servizi e di vendere la propria merce di riabilitare l'antica funzione del colosseo cioè l'arena come funziona il pubblico è assiepato sugli spalti e all'apertura dei cancelli migliaia di persone affollano l'arena allo scopo di accaparrarsi i prodotti migliori scontati di c'è pastor noi siamo andati lì all'inaugurazione e sono qui in questo momento proprio per presentarvi i prodotti dei quali sono venuto in possesso a prezzi modici allora iniziamo subito con il primo prodotto ecco qua ella il mio nuovo ipad eccolo qua con le sue meravigliose app che sono ai patate ai uovo al tegamino ai coscia di pollo e la meravigliosa ai cucchiarella ecco che è uno strumento multifunzione che oltre a indicare le varie app all'interno dell'ipadella ha anche la funzione di ai suoneria quindi molto pratico 879 euro l'ipad ella poi per 721 euro sono in possesso di alino ecco alino l'ipad alino ecco che ha la funzione di ad esempio per divertire un po la gente di diventare ai naso quando uno vuole fare l'imitazione dell'elefante per esempio può applicare all'ipad alino e diventa un ai naso oppure può diventare un ai buffi ecco o per i più esigenti può diventare un ai barba e quindi abbiamo visto un nuovo ipad alino un bellissimo prodotto del quale sono in possesso è l'ipad ue un grandissimo prodotto del quale però non posso dirvi né il prezzo né tanto meno l'utilizzo è una cosa che insomma non posso in questo momento però poi praticissimo prodotto per la salute e per stare meglio grazie alle nuove tecnologie è ologo il nuovo ipod ologo ecco vedete ecco serve per stare bene in salute perché i piedi sostengono tutto il nostro corpo ed è essenziale che siano appunto sempre in ottime condizioni 974 euro capite insomma un bell'affare ecco 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 per finire sono venuto sono acquisito e l'ho fatto un grandissimo piacere per 1347 euro ore il nuovo ipod con questo ipod è molto pratico ecco magari ecco e questo è tutto buonasera